Un villaggio turistico con gladiatori e taberne al posto di animatori e piscine è l'idea del gruppo storico della Roma Antica che si vorrebbe realizzare in Romagna. Un castrum da 10.000 metri quadri con spazi museali e ludici con la possibilità per gli ospiti di imparare le antiche arti degli antenati romani. Due le proposte, vere e proprie vacanze all inclusive con una branda per letto e costumi d'epoca o visite quotidiane e soprattutto rivolte a scolaresche. A Roma il gruppo storico ogni anno porta nella sua sede 9.000 studenti in buona parte in arrivo dagli Stati Uniti. Noi siamo fermamente convinti che il nostro progetto possa dare ancora di più se possibile valore aggiunto alla Romagna. È un progetto unico, non è mai stato fatto. Realizzare questa cosa veramente come era e non come ci ha insegnato Hollywood. Noi vogliamo che la gente si senta veramente con i pro e i contro un cittadino romano ma antico. I promotori stanno sondando interesse e disponibilità di imprenditori locali per un progetto che costerà circa un milione di euro. Già qualcuno ha mostrato il suo interesse come dimostra anche la presenza durante la conferenza stampa di due noti imprenditori riccionesi. Ora si cerca il sostegno di un'amministrazione comunale che magari offra il terreno. Già due le aree individuate in comuni della costa. Per ora abbiamo cercato dei terreni idonei per la costruzione del Castro. Contiamo di avviare delle vere e proprie consultazioni con le amministrazioni pubbliche già dai primissimi giorni di gennaio per verificare se c'è interesse in particolare da parte dell'amministrazione comunale a ospitare sul proprio territorio le nostre iniziative.